Consigli fantacalcio giornata numero 7. Se il buon signore ha deciso che ieri sera si chiudesse la sesta giornata ovviamente non poteva fare che si riparte sabato nel pomeriggio. Precisamente Lecce Napoli sabato alle ore 15. Questo vuol dire che dobbiamo prepararci al meglio per una giornata che viene dopo un turno infrasettimale e che subito dopo vedrà già le squadre impegnate in Champions Europa League Conference. Questo vuol dire che potremmo assistere a un eccezionale turnover per cui tutto può cambiare. Se stai cercando un'app che ti aiuti a schierare al meglio la formazione giornata per giornata ti consiglio Fanta Algoritmo. Fanta Algoritmo è una app fantastica perché durante la stagione ti fa proprio la formazione. Tu gli dici che schema vuoi utilizzare e lui ti dà gli indici di schierabilità della tua formazione. Quindi giornata per giornata ti consiglia chi schierare. E invece durante l'asta ti aiuta perché ti dice proprio chi chiamare quando chiamarlo e quanto pagarlo. Buono già per l'asta di riparazione anche se è un po' presto potresti metterti in avanti. Esiste una versione free di Fanta Algoritmo ma se vuoi utilizzarla nella sua completezza ti consiglio di scaricarla al link qui sotto e utilizzare il codice sconto Fanta Gol 20 che ti fa risparmiare il 20% su qualsiasi pacchetto. Andiamo a vedere chi schierare oggi nella settima giornata di Serie A. E si parte con Lecce-Napoli partita di sabato alle ore 15 quindi alle 14 sapremo già chi giocherà. Questo è ottimo perché il Napoli martedì è impegnato in Champions quindi sapremo se ad esempio a destra ti giocherà un Politano piuttosto che un Raspadori o chi vogliono loro. Sapremo se Strefezza sarà lasciato a marcire in parca o sarà un titolare. Nel Lecce proverei a mettere Strefezza come scommessa metterei anche Christovic e sempre come scommessa proverei Dorgu e Baschirotto. Scommessa perché comunque hanno contro un grandissimo attacco però c'è da dire che Lecce fin qua in difesa ha fatto meglio che il Napoli ha preso solo 5 gol quindi se sei alla canna si può provare anche un Falcone scommessa. Nel Napoli invece andiamo con Ozyman anche se occhio alla Champions. Io ho il dubbio che ci si possa ritrovare con al posto di Ozyman un Simeone magari un Raspadori al posto di Politano. Raspadori per Politano lo vedo molto probabile infatti il Raspadori lo metto nelle scommesse oggi te lo dico già. Al posto di Mario Rui potrebbe giocare Olivera per una sorta di alternanza e lo metterei ovviamente quindi mettiamo il terfino sinistro tanto ti ho già detto alle 14 vedi la formazione. Di Lorenzo dal lato di Strafezza mi fa meno voglia questa giornata. Mettiamo Ozyman mettiamo chi giocherà qui al posto di Politano io credo Raspadori e andiamo con Quaraschelia a me se non concesso che giochi lui. Sarei tentato anche da una scommessa a Elmas sperando che vada a giocare proprio al posto del Giorgiano. Milan Laff big match di giornata. Nel Milan proverei a mettere Giroud, Leao. Qui vedrai che giocherà Pulisic anche se è vero che Pulisic praticamente se le è giocate tutte quindi potrebbe pure fare la mossa di schierare Ciukwev e poi rivedremo Pulisic in Champions. Questo infatti non è sicuro. Troverei assolutamente Reinders e andiamo con Tehernandez anche se non è una partita facile. Qui ti indica Adli titolare non lo so è vero che Creunic ha dei problemi però mi sta difficile che vada a mettere Adli qui contro la Lazio. Come anche qui nella posizione interfino destro potrebbe giocare Calabria ma siamo a venerdì mattina alle 7 quindi ci sta che non abbiano aggiornato tutto quelli di fantacalcio. Nella Lazio mettiamo sempre tutto il tridente perché comunque dobbiamo provare a dargli ancora fiducia anche se questo tridente che l'anno scorso segnava a Badalucco quest'anno ci ha fatto solo 7 gol. Poco più di un gol a partita. Qui ti indica Kamada potrebbe giocare davvero lui anche se io credevo che l'avrebbero messo titolare nell'ultima partita invece no ci è andato Guendonvi o meglio ha giocato Vecino e poi è entrato Guendonvi ma ad ogni modo lui non ci ha dato il voto quindi contro Milan vado di sicurezza e ti dico Luis Alberto. Non metterei neanche Lazari perché comunque dal lato di Tehernandez e ad ogni modo lo sai che Sarri non è che lo veda benissimo. Se vuoi partecipare a un fantacalcio all'Istone e cercare di vincere grandissimi premi registrati su Fanta Eleven. Ti indica che non è possibile registrare altre formazioni perché non ha ancora calcolato la giornata. Vedrai che tra pochissimo potrai registrare un'altra squadra. Qui ci sono due fantacalcio a premi premium. Nel primo quello dedicato alla serie A puoi vincere iMac, bici elettriche, la maglia autografata di Mbappé è anche bella incorniciata, la TV Samsung è grandissima, è un 75 pollici, smartwatch, completi da calcio, maglie da calcio, borsoni, felpe, tablet, monopattini elettrici. Ce n'è anche uno sulla Champions League. Qui vinci la maglia autografata di Vinicius Junior, tablet, completi da calcio, felpe, power bank. Registrare una squadra costa 19,90€, tre squadre 54,90€ ma puoi utilizzare il codice sconto Fanta Goal che ti fa risparmiare il 20% su qualsiasi pacchetto di squadra che tu vada a scegliere. Sky che ha subito Fanta Eleven. Salernitana Inter. Nella Salernitana io andrei a mettere che andreva da ex come scommessa. Chiaro che nella Salernitana sono praticamente tutti scommesse quelli che ti vado a dire perché comunque si va a scontrare contro la migliore difesa della serie A. L'Inter fin qui di gol ne ha presi soltanto tre fatti sedici. La Salernitana ne ha presi dieci fatti quattro. Potremmo anche forse rivedere dia titolare. Chi non schiererei? Sicuramente eliminerei tutta la difesa. Occioa, Pirola, Faffio, Giomber, tutti via. Non metterei neanche mezzocchi quest'oggi. Anche perché è vero che mi hanno fatto notare che stanno andando avanti di grandi cinque ma poi è dal lato dove può giocare uno tra Di Marco e Carlos Augusto per cui non sarà una partita facile. Nell'Inter per me a sinistra giocherà Carlos Augusto e va schierato. In attacco potrebbe esserci una staffetta tra Lautaro e Sanchez quindi io Sanchez come scommessa lo schiererei. Chiaro che se hai Lautaro va messo e ancora di più Turam perché in questo istante Turam è meno sostituibile. Metterei sicuramente Frattesi e a destra Dumfries. Qui non dovrebbero esserci grandissimi dubbi perché Quadrado bisogna vedere che disponibilità può avere. La difesa qui ti indica praticamente la stessa difesa che è partita da titolare nell'ultima partita con il Sassuolo. Io ho dei forti dubbi. Secondo me vedremo titolare un De Vrij e probabilmente anche un Pavard. E ti dico anche ci sarebbe quasi la scommessina Bissek. Non gioca mai ma questa può essere una buona partita per provarlo. Sommer si mette assolutamente. Diciamo che nell'Inter puoi andare praticamente in all-in se non fosse che avrai qualche dubbio su chi giocherà proprio in vista della Champions. Bologna-Empoli. Prima di andarti a dare i consigliati ti consiglio di seguirmi. Io sono Michele e ti aiuto col Fanta Calcio. Voglio farti fare la migliore stagione possibile al Fanta. Infatti durante l'estate ti preparo all'asta andando a darti consigli strategici ma anche dicendoti proprio chi andrei a prendere io. Ti faccio vedere un sacco di aste live con altri creators e durante la stagione ti aiuto cercando di farti schierare al meglio la formazione. A proposito se vuoi un mio consiglio per schierare la tua formazione vieni in live oggi pomeriggio su Stadeo alle 17 e 10 e invece qui su YouTube ci ritroveremo a far colazione insieme domani sabato dalle ore 8 e mezza. Dopodiché si passerà alla piattaforma con la nota musicale. Nel Bologna ti dico Doge potrebbe partire titolare perché comunque sia Orsolini non è a pieno regime e comunque hanno giocato l'infrasettimanale quindi Doge potrebbe giocare pure a sinistra paradossalmente con un Orsolini titolare a destra. Vedremo però diciamo che in tre giocatori si giocano due maglie. Io ti dico sicuramente metto Ferguson, Virgve si può provare a mettere, metto Carson e ti direi anche Ndoge come scommessa ma anche Orsolini. Anche da subentrante Orsolini può fare molto bene, anche Ndoge potrebbe fare bene oggi comunque. Si può mettere sicuramente Skorupski. E occhio a quel Kristiansen perché nell'ultima partita è partito titolare Lico Giannis. Però mi fa più voglia Kristiansen. Nell'Empoli che ha fatto il suo primo gol, gol vittoria, proverei a mettere Baldanzi, Cambiaghi, scommessina Ranocchia, metto Marin per diciamo la sicurezza di portarsi a casa un 6 e proverei anche Buei. Disconsigliati veramente non ce n'è, forse Pezzella perché da quel lato sia che si becchi uno tra Ndoge e Orsolini non lo vedo tanto bene. Udinese Genoa. Udinese che segna col contagocce contro un Genoa che viene da un ottimo risultato contro la Roma. Nell'Udinese io provo a mettere Samovic, metto anche Lovric. Qua ti indica titolare success al posto di Lucca. Potrebbe succedere per un turnover poi difficile secondo me che in questo istante cavi Lucca perché alla fine è l'unica punta fisica vera che hai. Però a livello di scommessa, visto anche che il trend qua nell'Udinese di segnare molto poco, Sachs si può provare come scommessa. Nel Genoa, Retteghi Gudmundsson dopo quanto hanno fatto a Roma va Messi, vanno messi entrambi. Riproverei anche Messias e metterei Dragusin. Volendo oggi come scommessa è schierabile pure Martínez. Atalanta, Juventus, altro big match di giornata. Ora è difficile da inquadrare l'attacco di Gasperini. Credo che giochi veramente The Kettler e si può provare a mettere, ma come scommessa. Diciamo che nell'ultima partita non è che abbia fatto sto figurone. Si potrebbero provare a mettere anche il solito Kuhn Meiners, scommessina Ederson e volendo anche Zappacosta. Zappacosta che ha riposato nell'ultima partita per cui secondo me sarà titolare oggi. Chi non metterei? Scalvini, a parte che penso che faccia turnover. Comunque il difensore centrale che giocherà qui e occhio anche al portiere Musso Carnesecchi che sia, perché secondo me almeno un paio di gol se li va a prendere. Nella Juventus a sinistra giocherà Kostic e io lo metterei sicuramente. L'attacco sarà Vlaovic con Chiesa o potrebbe tentare anche un Vlaovic Milik, ma comunque Vlaovic va messo. Il resto del centrocampo penso che sia veramente questo. Forse Fagioli si gioca al posto. Proverei a rischierare di nuovo anche Danilo. Anche il nostro codice fiscale nel tutto è schierabile. Roma-Frosinone. Roma che concede tantissimo dietro ma segna tanto davanti. Quindi Di Balla e Lukaku si mettono entrambi. Potremmo mettere anche a scommessa un Belotti subentrante. Schiererei se ce l'avessi Bove. Occhio che qui ti indica ancora Llorente ma è infortunato. Qui ci trae un inganno oggi, fantacalcio. Occhio anche a De Sciarawi che è sempre un nome buono. Nel Frosinone però, come detto, se la Roma è una squadra che segna tanto per cui dietro il Frosinone non mi dà quella fiducia assurda. Infatti Turati e i due centrali Romagnoli ocoli non li schiererei. Però come detto è anche una squadra che ne prende tanti. Quindi io che dire lo metto. Metterei anche Sole e Caso. Caso se vuoi mettiamolo come scommessa. E darei ancora una chance a Marchizza e a Mazzitelli che stanno facendo molto bene. Se vuoi già questi due qui sono più scommessa. Però che dire a Sole io li metterei. Tra l'altro Marchizza e Bove sono su Starks. Starks è l'Exchange, la piattaforma dove compri e vendi i token dei giocatori. Token tutti con licenza. E puoi farci dei guadagni. Ma oltre alla compravendita dei token ci sono due giochi su Starks. Col primo gioco a seconda delle loro prestazioni ad ogni giornata vengono bruciati un tot di token del giocatore. Per esempio Carne Secchi nella partita contro la Fiorentina ha fatto bruciare 7400 dei suoi token. Questo vuol dire che meno token ci sono e più valgono. Quindi se tu sei un talent scout puoi prendere un giocatore come lui e vedere nel tempo il suo numero di token abbassarsi e quindi il suo valore aumentare. Tra l'altro hanno appena listato Nasti, giocatore del Bari che ha segnato nell'ultimo match e l'hanno listato solo 0,06 perché Starks vuole introdurre in piattaforma anche giocatori giovani dell'under 21 soprattutto che uno può prendere adesso a un press bloccato e aspettare che cresca nel tempo. Nel secondo gioco tu vai a schierare 5 giocatori e a seconda delle prestazioni che faranno in campo tu farai un certo punteggio. Con questo punteggio puoi scalare le classifiche e andare a prendere un premio in un monte premi veramente molto alto. Questo gioco partirà da fine ottobre. Entra su Starks passando al link in descrizione avrai subito per te in omaggio 15 euro al tuo primo deposito. Primo deposito che deve essere di 20 euro almeno. Sassuolo monta. In questo Sassuolo non puoi non mettere Berardi, non puoi non mettere Pinamonti e per una sorta di alternanza di bonus oggi potrebbe essere il turno di Laureante. Metterei anche Bayrami che è andato a segno con l'Inter. Però anche qui questa è una squadra che dietro regala molto, concede tanti gol. Quindi consigli contro questo Monza. Consigli a Tonini nel senso che comunque il Monza ha qualche problemino in attacco però consigli oggi io non lo andrei a schierare. Per me si può andare a prendere fino a due gol. Nel Monza come detto ci sono dei problemi là davanti. Io proverei a mettere Colombo però la parte trainante di questa squadra in realtà è il centrocampo. Quindi Colpani, Pessina, Ciorria. Li mettiamo tutti e tre. Scommessina, Birindelli e anche lui su Starks. Evitiamoci Caldirola che è dal lato di Berardi. Eviterei anche Marie e probabilmente eviterei pure di Gregorio oggi. Torino, Verona. Da mettere Zapata. Zapata si mette oggi. A centrocampo proverei a dare fiducia a Radonic, Vlasic. Metterei Bellanova assolutamente. Un gran fuori ruolo oggi. E come scommessa proverei anche Ricci. Nel Verona proviamo un Gonge, Bonazzoli, Lazovic-Faraoni. Anche se nell'ultima partita questi due hanno giocato in alternanza. E proverai Duda. Fiorentina-Cagliari è partita che chiude il turno lunedì alle 20.45. Ora nella Fiorentina probabilmente c'era veramente titolare Beltran. González potrebbe essere titolare nuovamente. Anche se c'è da tenere d'occhio il turnover che può esserci in vista della Conference. Ma ho il dubbio che per la Fiorentina sia più importante questa partita. A sinistra potrebbe esserci Parisi e si potrebbe pure mettere come scommessa. Metterei Cagliudè. Ho il dubbio. Jack Bonaventura perché potrebbe riposare però nel tutto sarebbe schierabile anche lui. Nel Cagliari proviamo a dare fiducia alla coppia Luvumbo-Petagna. Anche se fin qui l'attacco del Cagliari ha ci ha dato ben due gol. Volendo proverei a dar fiducia anche a Zappa Anande. Dietro ragazzi questa difesa qui non schiererei nessuno portiere compreso. Li metto tutti come sconsigliati e volendo potresti sperare in Augello. Però ragazzi come detto siamo in un attacco che segna pochissimo per cui Augello non credo che ci possa dare chissà che bonus. Questi erano i miei consigliati per la settima giornata al fantacalcio. Ti ho detto vieni in una delle mie live se vuoi un mio consiglio live. Prima live oggi alle 17.10 e poi ci ritroviamo sabato mattina dalle 8.30 qui su YouTube. Mi raccomando lasciami un like scaccia sfiga. Ciao e buon fanta a tutti.